Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque Juventus Women che battono il Lelas Verona e si confermano campionesse d'inverno per il secondo anno di fila e chiudono dunque il girone d'andata e l'anno solare al primo posto, sicuramente, perché comunque è vero che il Minas sta già vincendo 2-0 ma la Juventus è irraggiungibile con 28 punti e alla fine è considerato come c'è stato un periodo veramente duro dove sembrava, aggettivamente, che la Juventus non potesse lottare su certi fronti però adesso, insomma, a guardare i gol fatti e subiti, la differenza reti, direi che la Juve è dove merita la partita in sé non è che c'è stato molto da dire, nel senso che dopo 10 minuti la Juve era avanti 2-0 con il gol di Buonanzea e il gol di Aluco, Aluco poi ha raddoppiato il 36esimo una partita francamente dominata, non c'è granché di cui parlare della partita in sé poi al cinquantesimo ha segnato anche Gliona, lei l'ha riuscita a segnare con Dupui che dopo 4 gol nel derby settimana scorsa segna anche comunque Vinovo all'ottantesimo e all'ottantacinquesimo Aluco ha chiuso il risultato sul 5-1 chiudendo di fatto poi la sua persona le tripletta la seconda, se non sbaglio, la seconda, visto che aveva già fatto 2 gol a Roma contro la Roma aveva già fatto 3 gol e insomma una Juve forte, una Juve che come ho detto chiude l'anno solare in testa chiude il girone da andate in testa e via insomma quindi questo sicuramente è il risultato assolutamente positivo un risultato assolutamente importante perché comunque chiude di fatto poi un girone, ripeto, che era iniziato non è il migliore dell'ipotesi tra l'altro oggi era la prima in assoluto tra la Juve e l'Ellas Verona perché ricordiamo che l'anno scorso non era Ellas, era a GSM Verona la Juventus dunque è la prima volta che gioca col Verona ufficiale e quindi vittoria che ai fini statistici direi abbastanza importante ragazzi non c'è nulla da dire Juventus batte Verona e l'Ellas Verona 3-1 domina e rimane prima in classifica appunto chiudendo il girone da andata così e basta insomma auguro a tutti gli amici del calcio femminile un buon Natale e un buonissimo anno nuovo visto che poi ci risentiremo il 6 di gennaio per Chievo-Verona-Valpo-Juventus prima giornata però di ritorno ed è un nuovo anno appunto ragazzi io vi saluto e a tutti un saluto e al prossimo video ciao